Andiamo a vedere Siamo tornati Grotta dell'elefante bianco Vediamo questa volta com'è Se ci è andata meglio Andiamo a vedere Putridume Ma flusso Assente Dieter Ce n'è acqua a questo giro? Ce n'è acqua? Come avevi detto l'altra volta L'altra volta il nostro bitter L'aveva indicato così E va a dire Ah ecco qua Tanto C'è un'altra question C'è un'altra question Come arrivato il museo Ciao Ciao C'è un'altra Non piacere per favore Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.